Laboratorio 2 Preglievo di sangue capillare nel bambino, modulo pediatrico. Per eseguire questa procedura mi occorre un paio di guanti, il disinfettante, il batuffolo di cotone, il pungi tallone, la provetta e il cerotto. Per fare questa procedura al bambino possiamo mettere un succhiotto o altrimenti attaccarlo al seno materno. Prima di eseguire la procedura faccio un massaggio al tallone per favorire l'irroramento del sangue. Metto i guanti disinfetto la parte interessata che, nel caso del prelievo capillare, deve essere al lati del tallone, facendo finta di disegnare una V e quindi di pungere ai lati di questa ipotetica V. Nel caso di un prelievo per screening, la disinfezione della cute non deve essere eseguita. apriamo il nostro pungi tallone, la nostra microprovetta e andiamo a pungere il lato del tallone. A questo punto, con il palmo della nostra mano, facciamo una spremitura dall'alto verso il basso, facendo in modo di far defluire la goccia nella microprovetta. lascio e premo, lascio e premo. Alla fine del prelievo ridisinfetto la cute, faccio tenere stretto il batuffolo alla mamma, mi tolgo i guanti, metto via il materiale, annoto il tutto sulla scheda infermieristica e disinfetto la cute.